Scendono in piazza i piedi di Palazzo San Giacomo i dipendenti di Bagnoli Futura, società di cui il comune di Napoli è socio di maggioranza con il 90% delle quote. La società è stata messa in liquidazione. Dal 2002 Bagnoli Futura ha avuto il compito di gestire la trasformazione dell'ex area ital sider di Bagnoli. La decisione di mettere in liquidazione è scaturita dall'impossibilità da parte dei soci, comune, provincia e regione, di procedere a una ricapitalizzazione. Davanti a Palazzo San Giacomo, con tipici strumenti musicali napoletani come putipù, clic e ballacche, i dipendenti, queste le loro richieste. Noi vogliamo certezze, risposte concrete da parte del comune di Napoli che ci dica come poter mantenere il livello occupazionale. Noi vogliamo non più promesse ma certezze. No, ma il sindaco a noi l'aveva anche scritto in una lettera che aveva inviato a noi lavoratori lo scorso luglio, in cui diceva che si sarebbe impegnato in qualunque momento noi eravamo appunto in crisi. Ma ora bisogna passare dalle promesse ai fatti. Quindi vogliamo sapere concretamente noi dove lavoreremo. Questo è quello che chiediamo. Insieme ai dipendenti di Bagnoli Futura si sono anche radunate una ventina di donne appartenenti al Comitato Velle di Scampia che ha chiesto un incontro con un delegato dell'amministrazione comunale per chiedere la bonifica di un'area del quartiere che si trova vicino a una scuola, inoltre studenti e operatori del welfare.